Grazie a tutti. Quando è una questione di peso, di eccessivo peso, sono stati spostati e mano a mano vengono rimossi perché c'è talmente tanto affuenza di innamorati che mettono il loro locchetto e buttano la chiave nel lì. Quindi il punto di vista è che è arrivato a fare questa opera che appunto raffigura questo concetto in qualche modo, è appunto il ponte. Qui si vede il viadotto di Corso Francia, questo è il ponte dei Murchezzi appunto a Ponte Milvio e mano a mano vengono sostituiti e messi nuovi locchetti da innamorati. Questo è un piccolo giochino, insomma, un piccolo scherzo se vogliamo chiamarlo, l'ho fatto io, come se fossi una filema, c'è un pochino di foglia d'oro perché è l'oro giocchino. L'oro è sempre portatore di positività, di qualche modo, di qualcosa di buono. Allora, la parte, ecco qua, adesso tu metti un po' iniziale che vuoi e avrei forgetté simbolicamente la chiave dell'etile. Io mi chiederei se posso, se e che è il cammino al lucello. Sì, perché in realtà spero di venire sempre più spesso qui all'uccello. Allora, tira qua. Ne metto uno qui, eh. Buona. E poi metterò la chiave qui. Ecco qua. Bene, brava. Buona, e allora? Buona, sì, sì. Prima di voi, buona, 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 buona. A megar, venire, prendo il vostro canelà e metto le iniziali. Ecco, mi sa che era arrivato il mio turno. Di mettere... No, magari il video. Lo chiedo ai miei amici, grazie. bravo bravo grazie la chiave devo buttare la chiave è perché volevo riaprire volevo avere una possibilità non vale ma poi dopo è troppo tardi non si può più è uscita